Le chiese di Romaggi, Aveggio e Certenoli hanno accolto Don Daniele Beronio, un momento di festa nonostante la tristezza per la partenza di Don Emilio Iozzelli. Un passaggio che porta dolore, ha detto il Vescovo, ma anche speranza. Arriva Don Daniele, uomo dell'amicizia, attento ai giovani. L'amicizia per me è qualcosa di fondamentale, qualcosa che struttura un po' la mia persona, ha strutturato la mia persona e quindi anche la mia amicizia con Gesù è stata ed è tuttora molto importante. E le persone che lui mi ha donato sono quei segni del suo amore, della sua amicizia, del suo voler stare con me. Vuoi dunque, con la grazia dello Spirito Santo, esercitare l'ufficio sacerdotale come parroco, collaborando diligentemente con il Vescovo e con i confratelli del Ministero nel guidare il popolo di Dio di queste comunità parrocchiali? Sì, lo voglio. Nell'Omelia il Vescovo ha spiegato che il passaggio di sacerdote ricorda che solo uno è il pastore, Gesù. Noi siamo strumenti, passiamo, lui non passa mai. Il servizio del prete è accompagnare i fedeli a seguire Gesù. Il significato di questa celebrazione è vogliamo seguire il Signore che ha dato la sua vita per noi. La chiesa di Certeno li ha addobbata, il rinfresco, la festa dei ragazzi, grande gioia per il nuovo parroco. È importante che ci sia veramente un parroco giovane perché ci sono tanti giovani e tanti bambini che stanno crescendo. Mi ha riempito di gioia trovarsi insieme, le tre comunità, una volta tanto insieme per festeggiare questo momento che è così importante, l'inizio di un nuovo cammino e che spero ci veda altre volte insieme, uniti. Presenti anche i fedeli di Ferrada, Moconesi, Alta e Cornia, dove Don Daniele ha svolto il suo ultimo servizio pastorale. Come persona, come serietà, tante cose abbiamo apprezzato, specialmente tanta serietà, tante buone cose, andava dai vecchi, dai malati, sempre stato presente.